Avvocato Arnaboldi, nell'ultimo anno il settore media ha visto una serie di operazioni sul mercato. Crede che ci sarà ancora un consolidamento nel prossimo anno? Sicuramente ci sono state molte operazioni che hanno cambiato la configurazione del mercato e i principali players. Consolidamento ulteriore è difficile prevederlo, alcuni degli accordi importanti sono ancora in fase di esecuzione, ma certamente l'anno che va a cominciare dal punto di vista del settore dell'industria di media sarà molto diverso da quello che abbiamo conosciuto in precedenza. Grazie Avvocato.